Eccoli qua i tre vincitori del Minimas Galano, presentatevi, tu sei? Bernardo Parnaforte sono 67 Bernardo Bernardo è di un nome? Piccini Tu invece? Io sono Daniele Torso Di quello basso Allora, quanto vi siete allenati per vincere? Perut ora, qual è la sensazione che avete? Una grande soddisfazione? Sì, sì, felice Io sono molto felice anche perché è la prima volta che lo faccio quindi essendo la prima volta c'è più emozione non me l'aspettavo di vincere la prima volta Poi dai, come tradizione i tamburini ce l'ha bella Sì, sì, è una grande scuola in questo ambito davvero un bel lavoro Senti, quanti vi siete allenati? Eh, abbastanza tanto Il giusto Il giusto? Sì, sì L'anno scorso è molto di più visto e quest'anno era il secondo ormai ci si era già apposciati Senti, chi vi faceva più paura ad abbattere? Oh, il nicchio A me il nicchio Non gli è mai caduta la bandiera Poi anche il tamburino era abbastanza bravo Sì, a me il nicchio Il nicchio? Sì Lui invece? Bruco Era abbastanza bravo anche gli alfieri Senti, quante le avete fatte dannare l'addetta ai giovani? Senti, quanti le avete fatte dannare l'addetta ai giovani? Siete bravi? Sì Oppure siete dei bilini? Io la faccio a bilino e ce l'hai Eh, vedrai Sì Un pochino bisogna esserlo tutti Sennò c'è divertimento Vabbè, lo volete dedicare a qualcuno per questa vittoria? No A voi stessi? Sì Io lo dedico a mio fratello A tuo fratello? Sì, perché mi è sempre stato vicino anche durante gli allenamenti Quindi io dedico a lui Benissimo Complimenti ragazzi Grazie